Diffondere ai giovani studenti i principi e le conoscenze che Vitruvio, il grande architetto romano che fondò le basi dell'architettura attraverso il gioco, ora sarà possibile grazie a Vitruvio Docet, un progetto elaborato dal Centro Studi Vitruviano di Fano con la collaborazione di un team di giovani laureati in ingegneria edile, architettura e archeologia. È stata un'idea che avevamo già da un po', siamo tutti nel settore, siamo ingegneri, architetti, archeologi, abbiamo molte competenze riunite qui, volevamo sensibilizzare i ragazzi, i bambini, abbiamo avuto anche esperienze come animazione e tutto, quindi ci interessava far passare una passione e l'unico modo è il gioco, dove i bambini fanno, fanno, si mettono in gioco e quindi imparano più velocemente, siamo di questa idea. Come si veicola il messaggio? Attraverso che cosa? Allora, con materiale che abbiamo realizzato, creato, abbiamo avuto il supporto della VEC che ha realizzato tutto il materiale, abbiamo delle lezioni frontali e poi soprattutto leggiamo il testo di Vitruvio, non l'abbiamo tradotto, non l'abbiamo semplificato, lo teniamo così com'è e piano piano lo commentiamo con i ragazzi ed è molto stimolante e piace ai ragazzi, quindi ci fa molto piacere. Il gioco come metodologia di apprendimento per educare da subito i giovani al concetto di bello e di armonia che nelle nostre città si è smarrito, ahimè, a favore di un'edilizia espansionistica poco attenta a questi concetti. Cominciare ai ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, a metterli, a immergerli in questo mondo, cioè a farglielo vedere, a tentare di fargli capire, ma l'importante è che vedano. Vedono, si sperimentano su questo, girano per la città di Fano, guardano quelle cose che possono essere attribuibili a Vitruvio o meno, comunque le guardano e spero che qualcosa gli resti dentro. E poi per far vedere l'attualità di Vitruvio, cioè che non è che siamo un centro di studi particolari dove ci sono dei grandissimi professori che praticamente parlano tra loro, mentre il resto del mondo è al di fuori. No, qui siamo immersi nella realtà quotidiana e quindi un immergersi nella realtà attuale e speriamo serva a qualcosa.